cari amici di fano tv ben trovati oggi ci troviamo a lucrezia di cartoceto per raccontarvi la storia di un'azienda del territorio la metal fly seguiteci la storia di un'azienda del territorio la storia di un'azienda del territorio 29 anni nel settore della sub fornitura del mobile nasce la metal fly ad opera di maurizio cagnoli buonasera lei è il titolare di questa impresa ma non è il titolare unico no insieme a me c'è mia moglie fiorella e adesso è entrata anche nostra collaboratrice la nostra figlia simona lei prima di essere un imprenditore ha giustamente un percorso di vita personale nasce come studente ce lo racconti sì mi sono diplomato all'istituto professionale alessandro volta di fano come tecnico dell'industria meccanica poi dopo il militare ho iniziato a lavorare in un'azienda metalmeccanica di fano e contemporaneamente però so che lei ha fatto richiesta anche per poter insegnare sì difatti ho fatto anche delle supplenze nei vari istituti tecnici però poi si è trovato di fronte ad un bivio lei ha dovuto scegliere tra l'insegnamento e invece la carriera professionale insomma vera e propria il lavoro anche manuale se vogliamo e che cosa scelto ho scelto proprio di fare il dipendente di lavorare come tecnico presso questa azienda e poi è nata non la metalfly perché la sua prima ditta proprio come titolare aveva un altro nome si chiamava mf di cagnoli maurizio esatto beh lei oltre ad essere un imprenditore è anche una persona dai molteplici interessi tra i suoi hobbies ci sono il calcio il tennis la camminata si rifatti da ragazzo ho fatto ciclismo tennis calcio e adesso invece faccio solamente delle camminate e c'è una cosa che io non ti ho detto mai i miei problemi senza te si chiamano guai queste sono le parole di una canzone insomma di un suo artista cantante preferito è una passione per gianluca grignani proprio gianluca grignani è uno dei miei preferiti destinazione paradiso la mia storia tra le dita le sue canzoni del cuore sono proprio le mie canzoni preferite anche perché hanno un senso della mia vita a proposito di citazioni io ho il piacere di leggere una piccola poesia una formula nascosta una dose di curiosità due terzi di perfezione una spinta di coraggio insieme a forma di cerchio l'orizzonte è stato superato infinitamente l'infinito non è irraggiungibile ma possibile questa è una delle sue poesie raccolte in questo volume tutto quadro finché non diventa tondo come un sasso che rotola il suo libro anzi uno dei suoi libri questo è esattamente di tre anni fa 2018 però c'è in serbo un'altra sorpresa se di fatto sto ultimando il terzo benissimo beh dalla sua vita personale dalle sue passioni ritorniamo alla sua vita insomma di imprenditore l'azienda cresce negli anni nel tempo si adegua sta al passo appunto delle esigenze e iniziano le prime esportazioni e anche le prime fiere in effetti abbiamo lavorato molto abbiamo esposto i nostri prodotti all'estero siamo andati a casa blanca dubai in germania a colonia e a bazar zufen oltre a pordenone benissimo ci sono degli eventi che lei ha organizzato che le stanno particolarmente a cuore che ha piacere di raccontare se gli eventi possono capitare tutti i giorni quando vai già da un cliente per me è un evento però un evento molto importante l'abbiamo fatto quando abbiamo festeggiato con una cena aziendale il venticinquesimo anno di attività bene agli imprenditori so che piace parlare tanto di numeri possiamo allora parlare anche di fatturato visto che ci siamo fatturato adesso siamo sui 9 milioni di euro però il nostro obiettivo di arrivare quest'anno almeno a 10 produciamo tre milioni e mezzo di prodotti all'anno pari a circa 16 mila al giorno tra le sue citazioni ce n'è una che mi ha colpito in modo particolare un imprenditore deve saper camminare anche all'indietro che cosa significa signor maurizio significa che tutti tutti le persone sanno fare il vero imprenditore perché un vero imprenditore deve fare anche questo deve saper camminare un po anche l'indietro l'obiettivo aziendale per lei qual è il nostro obiettivo è di proiettarsi verso l'infinito verso l'infinito vuol dire fare innovazione innovazione vuol dire guardare avanti almeno di due tre anni una forza lavoro di circa 80 dipendenti su 8 mila metri quadri io direi allora di andare proprio a conoscere non solo chi lavora per lei ma anche questo ambiente di lavoro e vedere passo passo che cosa succede alla meta fly va bene a Siamo nella reparte Allora in questo reparto abbiamo delle presse meccaniche, ogni pressa ha un suo stampo e di conseguenza realizza il suo particolare, alla fine questi particolari vengono da noi assemblati, gli stampi vengono ideati, progettati e realizzati presso la nostra officina. Quindi in questo reparto vengono realizzati dei pezzi più piccoli, appunto delle minuzie, dei particolari e che cosa riguardano questi particolari? I particolari di che cosa? Sì, questi sono tutti i particolari che fanno parte del mobile oppure per mobili per ufficio, comunque in ogni caso per l'arredo. E le presse possono essere sia meccaniche sia manuali? Sì, e questi gli stampi possono viaggiare sia in automatico che in manuale. In automatico non c'è bisogno dell'operatore davanti. In manuale l'operatore prende il pezzo e lo mette sopra la pressa. Con un colpo realizza il pezzo. E la parte finale conclusiva del lavoro in questo reparto è proprio l'assemblaggio? Sì, qui facciamo anche l'assemblaggio, è la parte finale. Dopodiché dipende, se può essere verniciato o venduto, anche zincato, come il cliente ce lo chiede. L'officina è il cuore pulsante dell'azienda. Allora, quindi signor Maurizio, andiamo a vedere subito questo ciclo produttivo. Che cosa succede? Perché tutto parte da qua. Diciamo che parte proprio da qui, questo impianto molto innovativo, dove da questa barra si esegue in automatico foratura e piegatura. In fondo, l'operatore prende il telaio e conclude l'operazione di saldatura. Il tempo del ciclo è di circa due minuti. Eccellente è il rapporto qualità-prezzo. Come mai? Allora, per arrivare a questa qualità-prezzo e per essere competitivi sul mercato, noi abbiamo investito su questi macchinari, dove abbiamo un risparmio di mano d'opera. La qualità è perfetta, perché oggi il cliente vuole un prodotto di qualità. Quindi, prima dell'imballaggio, vengono tutti controllati, quindi il pezzo deve essere esente da difetti. E troviamo quindi un prodotto ottimale, ad un prezzo eccellente e competitivo, naturalmente made in Italy. E certamente deve essere così. Tassativamente deve essere così. La Metal Fly vanta un reparto di verniciatura proprio. Si tratta di verniciatura a polvere epossidica. Ci può descrivere la catena di montaggio? Qui abbiamo tutti i particolari pronti per la verniciatura. Vengono appesi su una catena, che questa catena viaggia circa un metro e mezzo al minuto, poi passa dentro un tunnel di lavaggio. E il lavaggio a quante temperature viene effettuato? Ovviamente siamo sui 50-60 gradi. Dopodiché passa su un altro tunnel, dove c'è un tunnel di asciugatura. E anche qua la temperatura? La temperatura è quasi ambiente, si aggira sui 40 gradi circa. Una volta asciutti, arrivano in un'altra cabina, cabina polvere, dove vengono verniciati con polvere epossidica. E poi entrano in un forno. E qui la temperatura, signor Maurizio? La temperatura deve essere molto importante e deve essere sui 180 gradi per mantenere una cottura perfetta. E ci deve stare dentro 20 minuti. Dopodiché vengono estratti da questo forno. Vengono, la catena continua a girare, poi ci sono due operatori che li prendono, li mettono sopra una pedana e pronti per essere portati ai reparti di assemblaggio. Siamo nella fase conclusiva di questa piacevole chiacchierata. Quindi è tempo di saluti e di ringraziamenti. Un ringraziamento speciale a tutta la nostra grande famiglia. Grazie a loro nel 2020 abbiamo ottenuto un ottimo risultato. Abbiamo incrementato il fatturato rispetto al 2019. Grazie di cuore a tutti. Grazie a lei, signor Maurizio, e tante belle cose per la sua attività che sia sempre in crescendo, in evoluzione e al passo con i tempi. Ringrazio il pubblico a casa per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Ringrazio il pubblico a casa per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.